Buongiorno e ben ritrovati per un nuovo appuntamento su Colossea Channel. Oggi ci troviamo ad Ostia Antica nel decimo municipio di Roma più precisamente nella frazione Longarina. Proponiamo una fantastica bifamiliare di 150 metri quadrati interni su unico livello con un ampio giardino di 500 metri quadrati circa su tre lati. Cominciamo con la proprietà esterna caratterizzata da un ampio spazio a prato dotato di irrigazione automatica, una dependance di 40 metri quadrati circa e un'ampia zona pavimentata per i posti auto. E' il momento della proprietà interna caratterizzata da un bellissimo tetto in legno, visibile da ogni ambiente e composta da ampio salone, sala da pranzo, cucina abitabile, tre camere e tre bagni. Ed ecco il salone. 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 Quindi zona living di grande impatto e ben distribuita con salone, cucina e sala da pranzo sempre comunicanti ma allo stesso tempo ben separati le finiture e gli accessori sono di alto livello come il pavimento in legno l'impianto d'aria è canalizzato in tutti gli ambienti e i vetri delle numerose porte finestre sono blindati ma passiamo alla zona notte composta da tre camere e tre bagni a presto concludiamo il tour con il terzo dei tre bagni vi ricordiamo che per visionare l'immobile o scoprirne tutti i dettagli potete consultare il link in descrizione oppure contattarci allo 06 50 91 53 70 per vendere o comprare il tuo immobile a roma scegli Colossea il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info